salve a tutti ragazzi bentornati sul canale benvenuti in questo nuovo video continuiamo ad occuparci della nostra città vi devo aggiornare su alcune cosette perché quando non stavo registrando ho portato alcune migliorie mi sono già un pochettino anche espanso con i quartieri lo so l'ho fatto mentre non registravo però alcune cosette preferivo appunto farmere diciamo tranquillamente senza magari annoiarvi troppo durante i video allora per prima cosa sono andato un attimino a sistemare questa zona se vi ricordate c'erano un sacco di quei palazzi brutti tutti attaccati che onestamente non mi piacevano quindi ho sistemato un attimino questa parte ho tolto un'altra strada che avevo fatto in mezzo e così con più spazio a disposizione non ne vengono di quelli brutti tutti attaccati insomma così c'è un po di varietà mi piace anche di più ci ho anche messo un piccolo parco così i cittadini stanno un pochettino più tranquilli e quindi questa zona insomma è rimasta tendenzialmente in questo in questo modo ho aumentato quest'altra zona invece quindi sono andato ad acquistare anche altri lotti diciamo della per quanto riguarda la regione quindi mi sono espanso decisamente di più abbiamo preso anche la parte iniziale della della nostra città dove appunto c'è lo snodo autostradale quindi mi sono portato più più avanti anche la parte sud ho iniziato a prendere un po di cosette così cerchiamo di organizzarci per bene ho già fatto qualche altro quartiere qui tutte di tutte casette insomma bassa bassa densità quindi questa parte diciamo che la possiamo appunto mantenere in questo in questo modo quindi casette piccole o al massimo queste insomma niente di di enorme niente di troppo troppo vistosa anche perché comunque la richiesta di per questo tipo di cazze traffico c'è qua ma che è successo non so se sta bloccato il mondo qua dicevo la richiesta comunque di questi tipo di di abitazione è sempre abbastanza alta quindi dove le metti subito e crescono ed è assolutamente una cosa buona il problema tra virgolette che sono passato anche di livello purtroppo senza volerlo mentre facevo tutte le cose quindi siamo ora a livello 8 per quanto riguarda appunto la nostra la nostra città quindi siamo più che città siamo un paese grande come appunto ci ci definisce la cosa buona è che ci ha abilitato appunto le case di alta densità quindi i famosi grattacieli o palazzi decisamente più alti e abbiamo anche la possibilità ora di restare il il petrolio quindi non è non è affatto male non sono ancora andata a mettere i punti sviluppo ne abbiamo ben otto quindi magari questo lo andiamo appunto a fare insieme e nient'altro insomma ho portato ovviamente le connessioni internet ho spostato non inserito un'altra clinica qui e ho anche messo una scuola media superiore qua perché comunque sia ok che abbiamo messo tutto da quest'altra parte dove sta qui ma è troppo lontano rispetto alle persone che sono qua quindi capite bene che potevano avere qualche problema raggiungere quella zona lì ho messo sia la scuola elementare qui che appunto quella superiore in modo da appunto avere le persone i bambini insomma i ragazzi che sono in questo quartiere qui che possono andarci senza dove è andata all'altra parte del mondo anche non so ma così effettivamente ci sarebbero arrivati lì oppure oppure no quindi grossomodo è questa le cose che ho fatto ovviamente ho prolungato la strada principale qua veramente c'è da sistemare perché si sta a fare un traffico del amadosca assurdo vediamo un po perché si è fatto sto ingergo qui e quindi l'idea mia era quella di fare ovviamente le zone ad alta densità da un'altra parte io avevo già eventualmente addocchiato quest'altra qui di zona che secondo me secondo me non è male magari non falli troppo ammassati perché sennò questi palazzoni enormi tutti attaccati non è non è il top però fa un po di strade magari abbastanza larghe distanziare tra di loro secondo me potrebbe venire una cosa buona magari ci prolunghiamo la strada partendo dalla da questa rotonda qui ora vediamo se riusciamo a tirare dritto direttamente con un ponte senza far troppe modifiche altrimenti andiamo fin qua su e tiriamo giù dritto insomma l'ideale sarebbe qui appunto perché meno ci abbiamo tutto sto spazio disponibile per permettere appunto i palazzi ad alta densità volevo dividere perché almeno ci teniamo appunto quartieri più o meno simili tra di loro questo la bassa densità qui più o meno abbiamo iniziato a mettere la bassa e media qui diciamo qui anche insomma l'alta densità secondo me ci sta bene a un quartiere ad hoc che insomma non va troppo a rovinare alcuni quartieri così piccoli insomma mettere qua un quadrato in cui c'è stanno i grattacieli onestamente non mi piaceva poi moltissimo quindi secondo me può andar bene anche così poi poi vediamo insomma perdonate la camera ragazzi che tra un po sfocherà perché il sole come sempre non posso faccio niente però voi concettatevi sul gioco e non su di me allora mettiamo togliamo un attimo la pausa tra l'altro scusate mi ero dimenticato per la prima volta siamo in positivo quindi per il momento rimaniamo così perché comunque la gente è arrivata ed è anche abbastanza contenta di questo e appunto rimaniamo per il momento così dovrei eventualmente tirare su parte bassa magari un attimino le tasse per quanto riguarda pulizia e amministrazione questa è ancora l'ottanta per cento 80 per cento quindi ovviamente andandola poi a livellare sarebbe ovviamente aumentato anche la spesa quindi non saremo più in in positivo cerchiamo di rimanerci un pochettino poi vediamo appunto come la com'è la situazione allora più che altro cerchiamo di capire che cazzo è successo qua scusate o potenzialmente non c'è nessuno come vi siete picciati non ho neanche idea di come poterlo togliere stagione che posso togliere la strada magari no guarda secondo me sole allora due cose ho metto un semaforo ogni tanto perché i semafori stanno praticamente da nessuna parte ho fatto incroci così problema che sono incroci tutti molto vicini però secondo me a una certa un semaforo ci deve essere e forse forse è proprio il caso di metterlo qua vediamo se con quello riescono può a sbloccare questa situazione semaforo vediamo un attimo ok forse forse sì andiamo un attimino purtroppo la cosa che sbaglio ovviamente ma ci metterà un po prima di ritornare la alla normalità la situazione e che ho fatto un unico violone di accesso questo qui che secondo me avrei dovuto farlo anche un filo più grande perché so due corsie di cui poi c'è gente che ci parcheggia e assolutamente non è non è il caso quindi è praticamente un'unica corsia e capite bene che un po un casotto scusate un attimo al volo vi modifico perché sta calando il sole passa tra le le feritorie della persiana e quindi tutte le volte devo andare a rincorrerlo vabbè torniamo a noi quindi secondo me c'è da migliorare sta strada purtroppo ripeto l'altro punto di accesso è qui anche se in verità qui le due strade non l'ho manco collegate che ci ho fatto fa sta casa qui ma secondo me sarebbe il caso di farli unire ma so viene una cosa un po bruttina la casa verrà demolita ma credo sia sia necessario ed è qua non ho tirato giù per interrompere insomma sto filone qua ho cercato di dare anche un po di diversità il problema ecco che ovviamente ora la situazione deve ancora tornare un attimo alla normalità secondo me un altro semaforo qui potremmo pure mettercelo così da dover interrompere regolare meglio il flusso e poi pensiamo anche a fare l'upgrade della strada allora secondo me questa simmetrica due corsie no quattro corsie non sarebbe mai quattro corsie diviso in due carreggiate ok secondo me prenderemo a rovinare infatti perché si allarga tremendamente ora la strada ah quindi da un lato dall'altro pensavo che si potesse fare qualcosa di meglio questa che è questa stanza unica a tre corsie praticamente impossibile è stata pedonare no niente allora forse forse intanto potrei far evitare la sosta alle vetture e poi vediamo e allora intanto ci mettiamo questo marciapiede largo allora partiamoci da qua giù eh lo so che se fa traffico però dovete pazientare un attimo ok ritorniamo in giù dall'altro lato altra cosa che dobbiamo mettere che ci abbiamo sbloccato già da un bel po' sono i mezzi pubblici quello si crea tutto il traffico qua ma tutti qua dovete venire mamma mia capito che ci metteranno un bel po' come sa prima che si riesca a smistare tutta sta cosa no regà tocca trova assolutamente un'alternativa allora quali sono sono i 10 e 36 questi perché devono venire tutti qua magari sono i nuovi questa destinazione caserma dei vigili del fuoco quindi sicuramente questo lavora qua e lavora lì la caserma e c'è poco da fa insomma io ci devo andare al lavoro e c'ha pure ragione c'ha pure ragione noi a caserma dei pompieri ma se che l'ho tipo ficcata da ste parti però non mi ricordo dove sta incastrata diciamo ma eccola infatti sta qua sopra caserma dei pompieri devo cercare di dare una strada problema che volendo pure qua potrebbero venire io ora non so il perché siano venuti tutti da sta parte qua il problema che qui passiamo da tre corsie a una sola manca due a una sola cioè sarei tentato di fare eventualmente quella non c'è quella doppia corsia di cui una strada simmetrica cinque corsie queste sono due che scendono e una che sale il problema che comunque o da un lato dall'altro dovrei andare a a sacrificare delle delle case ma qui c'è pure i parchi devo capire dove il male minore da poter fare che a queste strade un lato destro un lato sinistra prossima devo fare magari la faccio comunque divisa in due due senza che metta a fare l'asimmetria vabbè la facciamo verso se no scusa se io la faccio sopra lui diceva se tu fai una cosa sopra tecnicamente non dovrebbe andare a pagare nulla non so cosa stia facendo perché non vedo ecco penso che sia comunque il medesimo il risultato che tu fai l'upgrade oppure no qui che cazzo è successo tagli un po camionci perché poi tutti vogliono mettersi sull'unica corsia che poi porta a destra insomma quindi è chiaro che poi da tre corsie appunto si fa l'ingorgo di quelli che vogliono ovviamente cercare di di entrare nell'unica e niente regato che fa stop grid facciamo stop grid qua questo magari lo spostiamo manutenzione 74 manutenzione dei parchi è fondamentale dovremmo averci le manutenzioni dei parchi noi vediamo un po ce l'abbiamo cioè qua vedo i parchi però non vedo sì vedo le macchinine che girano ma è da pensare sì però dai mi ho messo sto coso per il deposito cioè eccolo qua ok ok si vede che ci devono ancora arrivare vabbè sto parco lo spostiamo e dove lo piazziamo ricolloca andiamo a buttaggi un po di sennò aspetta allora ti parcheggio momentaneamente qua così dopo che ho fatto l'upgrade vedo magari lo metto qui all'inizio infatti non so se qui effettivamente ci andava qualcuno magari dovrei mettere un po più in mezzo vabbè facciamo questa upgrade purtroppo qualche casa verrà sacrificata e allora questa è scala divisa in due carriaggiate va bene è quello che ci serve la facciamo verso qua verso sinistra eh lo so alcuni si sacrificheranno come come casa ma è è necessario per il bene della della viabilità qui se no è in casino sono veramente in casino allora riposizioniamo un attimo questo che potrebbe eventualmente rientrare qua ma andiamo a buttaggiù qualcosa io lo metterei qua questo è fatto ok sì ci sta ok stanno già ricicciando sulle le varie case mettiamo un attimo a due la la velocità vediamo com'è la situazione adesso ok quindi con l'upgrade lui praticamente mette le i semafori proprio in fortuna meno scattano in maniera intelligente insomma se scatta rossa scatta rossa tutta la linea o il contrario insomma ci può stare da sta da sto punto rivista vedete c'è tutta la la linea famosa linea verde quando li becchi tutti i consecutivi praticamente quindi non è male come cosa la maggior parte è fatta bene ok dai l'upgrade andava fatto quindi va benissimo pure così allora mentre qua sistemano la la faccenda e mi sembra che appunto stia andando abbastanza bene sono quelli che un po si lamentano per l'affitto alto qui più o meno stiamo ancora con alcuni che hanno problemi di clientela qua sta andando a fuoco tutto frate cazzarola stavo a vedere sta andando a fuoco io dove ho pompieri pompieri dove siete sta andando a fuoco tutto andando a fuoco tutto dove ce l'abbiamo noi pompieri perché ok ok ce l'abbiamo noi sta qui dai sta arriva adesso capito un po più di velocità il rischio incendiamento 26 per cento non è proprio poco poco dai intanto qua sta andando a fuoco tutto dai seguiamo l'intervento ci hanno messo un bel pari qua 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 sta andando a fuoco tutte le case ok abbiamo salvato per no uno è morto mi sa è un carro funebre mi sa che qualcuno non ce l'ha fatta purtroppo dannazione ci hanno messo un po uscita qua però eh dove è che stanno scusa questa stazione polizia l'ho visti finita stava qua arrivano in chiavicolino so uno dei quattro sa che sono un po pochini sti vigili del fuoco a parte forse dovremmo intagli i servizi no stanno al cento per cento so proprio la polizia che è meno so proprio pochi loro me sa non ce l'ho fatto estensione del garage eh fallo un attimino così perlomeno so otto vediamo un po se riusci ok sono riusciti subito a ad assumere le persone così magari esce qualche autopompa in più allora dicevo comunque qui abbiamo ancora alcuni che hanno problemi di clienti insufficiente questo vende la plastica e questo vende la plastica ecco perché perché ho letto che praticamente ehm se nascono come in questo caso purtroppo due negozi che vendono la stessa cosa ovviamente si dividono anche i clienti e quindi è chiaro che ci siano clienti sufficienti magari che la fortuna che c'ho io ne è nato pure in altro di plastica che vende qua magari in zona eccolo tipo questo quindi ci sono tre negozi che vendono plastica nel giro di qualche metro e quindi è normale che questi possano avere problemi ora sta pure dall'altro lato il top tessuti cibi tessuti e plastica tiè che ne è in altro però questi non c'hanno problemi ma questi grossi si in teoria per risolvere tra virgolette sarebbe il caso di buttar giù l'edificio sperare che ne nasca un altro magari che va a vendere un'altra cosa però questi sono praticamente vicini il problema è che buttando giù butto giù pure 30 unità abitative che non è proprio il top da questo punto di vista insomma dispiacerebbe buttar giù casa a qualcuno quindi non è non è proprio il top va bene allora facciamo continuare loro noi cerchiamo invece di espanderci come abbiamo detto in precedenza se no non facciamo niente allora andiamo direttamente con la strada quella grande così non abbiamo poi eventualmente in futuro problemi di ingorghi vediamo un po se possiamo andare sì possiamo andare direttamente qui se magari si mette vabbè più o meno dritto ma insomma qui di dritto avevamo già fatto abbastanza tutto storto vai così potrebbe essere è in acqua no ma perché non me la fa direttamente allora così in teoria me la alza lui allora vediamo un attimo così e poi sto pezzo qua me lo devi abbassare perché poi una certa devono tornare giù quindi com'è ok quindi qua già parte alto e poi si abbassa vabbè qui abbiamo sfruttato diciamo un po il promontorio e siamo arrivati qui che poi scende vabbè dai ci può stare vabbè qua ci sono i piloni vabbè giustamente va bene ok così ci può stare allora questa direi che la tiriamo dritta dritta fino a giù la tiriamo veramente dritta fino a qua ok così questa diciamo è il filone principale delle delle strade da qui in poi ci facciamo questa qui a due corsi altrimenti potremmo fare qualcosa di più grande ora non so quanta quanto traffico potrebbe generare a parte che già ste due volendo le potremmo queste però sono diverse ma chi cazzo è che c'ha perché già qua ma dai io ma sono venuti a perché già qua in cima non è proprio il top ma che ti dice la testa scusa non è parcheggiato parcheggiato saluna praticamente guarda qui scusa la famiglia rapetti dove cazzo c'hai casa qui è porco giù è parcheggiato qua giù mamma mia com'è la situazione sotto casa ampicciata se sei dovuto venire a parcheggiare lì è ampicciata oddio questo infatti sono un po pochi ma sei parcheggiato a ste parti sa che stanno un attimino borderline forse ne dovrei mettere un altro ce n'è uno qua ce n'è un altro qua provavo a mettere uno piccolino perché se sono andati in parchi già laggiù c'è qualche problema direi ho capito che non ce l'hai proprio sotto casa ma niente non ce vanno da sta parte lo devo mettere qua allora qua forse qualcuno più grande no ce lo metto per forza questo vediamo un po' se si incazzano perché alcuni si possono pure arrabbiare metti a 25 ho alzato pure un bel po' i prezzi dei parcheggi perché sennò qua è il cavolo che riusciva ad entrare in positivo sta situazione allora sta strada qua è comunque un filone abbastanza principale ora mi vi è il dubbio che se la facessi come l'altra ma sa che andiamo a buttare giù qualche casa forse no no aspetta aspetta che non buttiamo giù niente ok perfetto però io non pensavo che comunque gli desse la possibilità addirittura dei parcheggiacce qua è comunque una strada a due corsie forse solo quelle delle autostrade non effettivamente non gli permette niente devo mettere sta cosa qui quindi devo mettere sta cosa qui pure sulla strada vabbè damola su tutta la strada così stiamo proprio tranquilli sia a destra che a sinistra ok qui che è successo abbandonato questo è stato abbandonato dai soccupanti no se ne sono nati perché infelice servizio per l'istruzione scarsi ma come per l'istruzione scarsi cavolo sta vicino in college scusi c'è in college c'hai ho capito che l'altre stanno qua non saranno proprio cazzo è successo qua un altro ingorgo che succede sì ma qui perché gente che non sa guidà però eh qua bisogna più che altro vede la situazione d'autoscuole perché come si fa a fare l'ingorgo qui scusate eh qual è il problema ancora so è i 5.41 la gente sicuramente sta a torno a casa mamma mia che cacchio di caccia era qui per fortuna c'è il semaforo ma devo cercare di sistemarla sta cosa abbiamo undicimila undicimila persone ho pensato un po' peggio invece non è male abbiamo incessibilità a produzione qua mi dispiace questi se ne sono nati e qui andavano abbattuti supero rimpiazzare da qualcun altro che cercava casa allora dai torniamo un attimo a noi dicevo volevo unire intanto ste due strade qui e secondo me però so che da una cosa passa un'altra però aspettate secondo me è il caso di sbloccare o le strade grandi o le autostrade proprio perché facciamo proprio una rete principale e poi le sottoreti possono anche stare grandi così però proprio una in cui se si devono spostare per esempio qui da un quartiere all'altro forse l'autostrada oppure una strada grande non è male questa strada multicorsia molto ampia che consenta le alte velocità e sono adatte alle aree altamente trafficiate eh tipo i filoni questi grossi che ci abbiamo il problema è che poi si insinano tutti in quelle più piccole e là poi si rifà l'ingorgo è normale come una rartà insomma purtroppo non ci possiamo fare niente e intanto ci abbiamo otto punti queste strade molto ampia allora facciamo queste intanto poi vediamo per l'autostrada e ci abbiamo qualcos'altro di importanti da prendere questo è il trattamento delle acque questo per evitare depurazione dell'acqua e reflu e appunto di inquinare di meno pianto inceneritore l'università questa è l'università tecnica tecno offre istruzioni accademiche in ambito tecnico aumenta l'efficienza degli uffici e aziende industriali e questa è in medicina ecco questi in teoria sarebbero entrambi da sbloccare ma penso che piazzalli costerebbe un boato mi viene da pensare che sono veramente tanto tanto costosi costosi questa banca centrale addirittura allora i trasporti pure stavano un po' così non ci ho messo morto addirittura aria posso sbloccare o morto non li ho fatti molti anzi quasi per niente però è una cosa che dovremmo eventualmente perderci un po' di tempo allora io sblocco pure queste autostrade qua me ne avanzano due per il resto li teniamo e allora metto un attimo a uno la questione e ok allora vediamo un attimino questa è strada di grandi strada a sei corsie che consatta di traffico in entrambe le direzioni ok sono le stesse cose di quell'altra solo che sono molto più grandi questi sei corsie a sansunico va bene i punti ok ok 8 corsie divise in 2 carreggiate vabbè al puntone non sarebbe male pure qua autostrade a doppio senso questa ha doppio senso a 3 corsie a doppio senso a 4 corsie e poi vabbè quella a sansunico punte autostradali ad arco ok quindi queste sono 4 corsie è una cosa enorme fa vedere un po' che diventa vabbè è una strada normale solo che viene appunto sono tutti in unica ok direzione viene ovviamente tolta la possibilità eventualmente di parcheggiarci il problema è che se faccio questi poi devo fare anche gli svincoli non è che dal punto in bianco poi incrociamo una strada normale non è normale sta cosa scusa del gioco di parole scusa se io facessi una strada così lo so è una prova eh ok comunque fai fai autostrada a 74 con semaforo in mezzo praticamente è una cosa bruttissima non posso fare non ho sbloccato gli incroci eccoli barriera insonorizzata lampioni scusa avevo sbloccato anche incroci se non ricordo male dove sta no non l'avevo sbloccato grandi incroci pronti per l'uso cazzarola questo non l'ho sbloccato è proprio quello che mi serviva per evitare sta cosa qua ti fanno appunto gli incroci quindi vedi tu puoi fare le varie uscite questo c'era anche nel primo però ce ne sono decisamente tanti fatti già apposta così piazzi quello al centro e poi ci fai tutte le strade che si diramano fa così è una cacchiata perché sennò cioè arrivi a cannone potete frenare che c'è il semaforo direi di no insomma non va bene così e allora possiamo intanto questa la togliamo questa la togliamo per il momento rimaniamo così con questa strada normale poi poi vediamo dobbiamo sbloccare le altre cose le brutte possiamo ovviamente fare che non ci parcheggiano allora torniamo a noi questa è una corsia così sono a sette corsie a sette corsie che cos'è è grosso sta cosa fa vedere madonna enorme quattro corsie da un lato e quattro dall'altro per il momento non mi serve tutta sta 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 cosa posso farle poi ritornare ok vabbè allora continuiamo con questa e ci congiungiamo con l'altra così no sbagliato volevo fare così ok facciamo una cosa così brutale proprio a 90 gradi se riusciamo se ci riusciamo magari ok e ci congiungiamo qua ok sperando che davvero non ci vanno a parcheggiare però perlomeno abbiamo un complesso circolare per quanto possibile poi non so se metterci in arodondo oppure veramente ci lascio l'incrocio col semaforo forse è meglio l'incrocio col semaforo facciamoci una strada che taglia pure di qua quindi questa le brutte appunto se prosegue va di qua ok e poi ci facciamo magari così queste queste possono congiungere sì ok e ne favo un'altra nel mezzo così a posto vediamo cash cash fuori ammesso che abbiamo la richiesta di alta intensità che non sono mica alta intensità no alta intensità che è che sfalla qui vediamo che esce fuori ma per il momento non mi sembra non ci abbiamo appunto richieste però vediamo un attimo com'è la situazione qua velocizziamo un attimo vediamo se aumenta un pochettino la la richiesta oppure no allora intanto abbiamo sbloccato anche dei parchi gioco insomma questo è campana basket lo skate park insomma quindi roba interessante tipo qui ce lo potremmo mettere un parchetto tanto ci abbiamo uno spazio foto eccolo così la gente è tranquilla e contenta qua pure non c'è veramente niente ecco dei riserviti lì stanno le fabbriche sti cazzi qua qua pure ce lo mettiamo una palestra all'aria aperta può servire mazzate piccola campo da tennis c'è un campo da tennis ok così magari aumentiamo anche la voglia di persone di venire da questa parte e qui ovviamente ci mettiamo già i servizi ovviamente con le spese facile che andremo pure magari in negativo questa la rimettiamo qua e per il momento opposto ah no aspetta ce lo mette la cassetta da posta la mettiamo qua vicino alla stazione un'altra la mettiamo qua e un'altra qui e ci mettiamo anche la torre wifi qui come stiamo messi wifi più o meno bene a parte qua la discarica ma questa la piazziamo direi qua anzi cerchiamo di metterla magari lontana dai palazzi che può essere brutto però la giung non ci arriva bene allora la mettiamo cazzo la mettiamo qua ok vediamo un po' se compare qualcosa vorrebbe essere interessante da vedere anche se non ho minimamente richiesta da sto punto di vista allora come scuola noi avevamo sbloccato qualcosina università oppure no oddio non mi ricordo mi pare che si o no no non l'avevo sbloccate perché potrebbero costare troppo allora facciamo questo tecnico anzi no l'università di medicina va che stiamo sempre un po' messi male eccolo qua quanto c'è via 2 milioni e 400 mila chi ce l'ha cioè sì però saremo veramente andando in bancarotta no peggio dell'ospedale questo questo è peggio mazzante grosso ma un cazzo da ora dei monolite grosso sì ma per il momento non è proprio il caso va bene qui la situazione diciamo che l'abbiamo acchitata come si dice c'è già gente che ce via a lavorare quindi queste ci vengono veramente da fuori già che ci sono però piazzo pure i parcheggi un bel parcheggio grande magari molto grande è un po' bruttino lo mettiamo qua e l'altro lo piazzerei qua ok cerchiamo di mettere in linea ovviamente con i prezzi dall'altra parte e quando e se ci sarà un filino di richiesta spero che vengono a farla qui insomma per il momento non ci avevo proprio niente richiesta di residenza alta l'inizio è proprio zero di zero quindi allora vediamo un attimo però perché qui tecnicamente mi dovrebbe dire disponibilità di posti di lavoro ok edifici non occupati e non l'ha manco costruiti imposte quello vorrebbe essere un problema perché sono un po' troppo alte per loro il problema è che senza queste imposte noi stavamo messi male infatti vedete già siamo andati ampiamente in in negativo da sto punto di vista ok allora ho sistemato un attimo la gamma che veramente diventerà troppo buia la situazione allora secondo me dobbiamo cercare di sfruttare ancora un pochettino per quanto riguarda le richieste a bassa densità oppure appunto per cercare di invogliare a venire qua bisogna abbassare magari un attimino le tasse eh passiamo passiamole tutte dai riportiamole a 10 e passiamole infinito pure qua lo so che ci costerà un pochetto ma se può invogliare la la costruzione qua qual cazzo è successo l'ombra che è ancora problemino qua problemino tecnico tattico dicevo se può invogliare ovviamente la costruzione ben venga assolutamente e ok allora quelle sono le 3.37 quindi tecnicamente è notte ora ho tolto la cosa giorno-notte regà perché altrimenti di sera era un po' un casotto voglio vedere se poi per quello c'è poca gente in giro se si ricreano gli ingorghi che abbiamo visto in precedenza soprattutto nelle zone qua qui c'è comunque macchine che gironsolano ok pieno larga praticamente oppure sono quelli che ovviamente vanno a lavorare a stazioni di servizio insomma tutta sta gente che viene qui non ci vorrei mettere quelli a bassa densità voglio tenerla appunto per quella ad alta quelli a bassa densità volendo potremmo oddio qui c'è sta il fiume potremmo espanderci qua sopra però c'è da capire l'autostrada cosa fare allora due se le cose volendo potremmo anche scavare sotto cioè non è non è un problema magari facciamo un tunnel che passa da qui sotto e sbuga dall'altra parte così l'autostrada non la toccamo se no dovremmo alzarla potremmo non toccarla e appunto fare un tunnel che va sotto e collega poi l'altra zona insomma non è male insomma qualcosa che collega velocemente secondo me sotto sottoterra le zone della città non sarebbe male qualcosa che va da qui a quest'altra zona o da qui alla zona del lavoro mamma mia qua siamo proprio messi un po' male male qua qualche collegamento appunto veloce non credo che sia male come cosa vediamo un attimo se possiamo aumentare intanto un po' qua scusate che butto giù una una struttura però mi serve la strada anche qui così la congiungiamo qua ecco la quale sta un po' impicciata con queste cavolo di di autostrada che sarebbe proprio da fare uno svincolo in modo che magari i cavi non c'entrano neanche verso la città ma entrano direttamente qua tipo qua uno svincoletto qui non so se me lo permette di fare intanto questi sono a senso unico vediamo un po' se posso fare qualcosetta caruccia e magari da qua ti congiungi qui non è una mezza azuzzeria però potrebbe essere interessante però perlomeno famola vabbè famola intanto una corsia sola poi le brutte facciamo l'upgrade ok dai non è male voglio fare perlomeno l'upgrade a doppia doppia corsia ok dai non è male così magari quelli che devono entrare inutile che fanno più strada oddio non lo so mi fa comunque tutto un giro vabbè sa decidano loro insomma come poterla gestire e quindi facciamo qua e via così creiamo altri posti di di lavoro insomma e qua non ci ho mai fatto a quanto pare no ok allora per quanto riguarda l'elettricità dovremmo stare a posto sì decisamente a posto da sto punto di vista ne favo talmente tanta che ne esportiamo praticamente il massimo quindi non è non è male allora aspettiamo che nascono questi qua perché magari possono chiamare altre persone a ovviamente a lavorare a chiedere case ci abbiamo anche una bella richiesta di uffici uffici fatti qua però pure non sarebbe male magari qualche ufficetto sarebbe bello fare l'ufficio con la alta densità questi piccolini però potrebbero anche essere interessanti vediamo un po' se ci sbloccano magari la situazione magari danno un po' di vita non lo so e teniamoli comunque bordo strada vediamo un attimo so pochi abbassano un paio e già diminuisce veramente tutta penso la barra ormai si proprio filo filo proprio il problema è che quella alta densità è proprio niente richiesta assolutamente zero proprio zero zero carbonella allora velocizziamo un attimo così vediamo la situazione e vedo mettere case normali qua sarebbe facile vista la richiesta però non è quello che voglio fare non voglio darla qui qua appunto volevo mettere qualche gherattacelo come si deve sarebbe interessante insomma perché c'è comunque una zona differente allora già che ci so proseguo anche la strada qui così poi non mi scordo di congiungerla qua ok quasi pure arzata eh sì perché qui è più alto quindi da sta parte non mi farà è uscire queste macchine non mi farà costruire allora qui intanto eccoli stanno arrivando ragazzi tensione unità unità 216 216 216 anche qua di cui 88 già occupate vedi gli uffici hanno iniziato a tirarsi un pochettino la richiesta eh qui c'è tutto quello che ah a proposito non tutto quello che vi serve non ci ho messo la clinica porelli dove cazzo non la sta ah qui sta clinica medica ci ho messo tutto tranne la clinica porelli allora io quasi la piazza proprio qua tiè ok ci metto subito anche deposito dell'amburanza così non c'hanno problemi sperando che si riempia eh sono già riempita tiè 14 su 14 ottimo tiè eccoli i primi palazzoni ragazzi eh bello sì immaginate questi in mezzo che in mezzo al quartiere quello con le case basse questi dall'alto praticamente che governavano su tutta la piana praticamente 206 su 216 che sta l'abbiamo riempito questo è un po' meno ma perlomeno uno l'abbiamo riempito allora questo è case piccole case piccole è una scelta te eh se no per adesso tutto a posto servizio postale sicuro abbondanza di intrattenimento buono dai abbondanza di tempo libero quello beh se lo dici di lui non male dai 189 146 dai che stanno arrivando anche qui eh piano piano stanno arrivando anche qui ottimo ottimo raga e ne sta crescendo un'altra addirittura mamma mia attenzione devono ancora finire in più uno già ne stanno inizionato più che altro devo togliere la cosa dei parcheggi sarà inutile che ci ho messo cioè la sosta lungo strada non ha senso che abbia messo che è già sono fruciati mamma mia ma cosa è arrivato di già non fruciato ma che cos'è e che cos'è allora niente sosta lungo sta strada assolutamente hai in entrambe le direzioni grazie se no io che casper avevo messo a fare i parcheggi idem su queste interne eh andate a parcheggiare lì non rompete le scatole grazie anche qui perché questi proprio trovano tutti i possibili posti dove poter parcheggiare un po' nella realtà no? ha un buchio che appena c'è un posticino anche che non sia effettivamente un post la gente si piazza vedi fatto quella là e quindi si mettono su quella di fronte ah abbiamo visto no? quelli che avevano parcheggiato veramente lontanissimi pur di qua dovevo mettere una cacchio di rotatoia però giustamente questi per tornare dall'altra parte devono fare il giro come si dice a Roma il giro di Peppe e sì secondo me qua una rotatola ci starebbe alla grande la famo prima che crescano i palazzi vai così si snoda meglio pure il traffico ottimo vedi vedi che è già più scorribile vabbè non c'è un po' di traffico qua però la situazione dovrebbe essere migliore ok quindi questi poi a piedi vanno qui attraversano e se ne vanno a casa ottimo qui vabbè c'è un po' di ingorghi ora il tempo che la gente ovviamente viene qui mi sa che ne devo fare un altro perché questo ne prende solo 135 questo già anche a Rufuni perché è morto è appena arrivati so e che cos'è questi sono veramente tanti questo 196 per il qua sta in aumento ne stanno a costruire altri due minchia mi sa che qua ci dove mette quello quello enorme regate perché che dell'anno non ci ho messo ma qui mi sa che proprio urge questo urge proprio questo rega assolutamente e quasi quasi già che ci sto mi prendo st'altri lotti qua ok così posso gestirmi un attimo meglio la situazione ma ancora non fruciato ma no c'era solo traffico sì qua c'era traffico perché la gente ovviamente sta a cercare di andare nei parcheggi e allora vediamo un attimino piazziamo quello però devo mettere in modo che ci possano arrivare da quant'è questo come capienza non me lo dice certo se parcheggiano qua si devono fare un bel po' di stare a piedi secondo me mi conviene togliere questo che mi pare che sia quanto vuoto si direi proprio di sì magari questo lo ricollochiamo un attimo qua e là ci piazziamo quello grosso vediamo un attimino qua ok anche questo se paga e te che vedo 160 solo cazzo è enorme scusami questo quanti ne prende 135 io me ne aspettavo tipo 300 da questo come minimo guardate quanto è grosso bello però si vedono pure le macchine da sopra cioè io me ne aspettavo molto di più efficienza 111% comodità 67 però non c'è se parcheggia nessuno tutti qua stanno a venire vabbè dice vabbè ormai c'è la macchina qua che faccio la porto la porto dall'altra parte no questo che è nato piccino ma no purello guarda che è nato il figlioletto raga ma dai ma tutti così grandi è questo che è arrivato piccolino piccolino purello tiè ma dai infatti che sono 108 case quindi questo forse c'ha pure case più grandi no case piccole uguali ne so pensavo essendo più piccolino magari avessero aumentato le grandezze delle case allora il problema è che qua la gente è ovviamente a parcheggiare qua questo stava in overbooking ah poi le qua stanno a venire cioè perlomeno non ho visto entra uno infatti vedi però aspetta un attimo come mi avete consigliato forse mi conviene mettere delle strisce pedonali perché altrimenti qui la gente non che è sto rumore non potrebbe attraversare quindi deve andare giù la strada per attraversare direi che non è proprio il top della comodità ok mettiamo in una lì qui poi anche qua eh vabbè la metto la giù no per chi vuole andare magari al campo da tennis mettiamo in una qua povere qui mi sa uguale mi servono mi servono un po' di di strisce pedonali qui ci stanno perché c'è l'incrocio ok vediamo se ora si inizi magari si inizia magari a riempire anche questo perché se c'hai comunque la strada qua se tu devi abitare qui è inutile che parcheggi qua giù insomma sta veramente veramente pieno queste tutte queste macchine che parcheggiate ma porco giura so scordare di fare sto pezzo direi proprio di sì niente questo la devo tappezzare di che non dovete sostare lunga sta strada guarda qua l'ho detto se sta riempì quell'altro qua giù in fondo ma non se sta riempì quello grosso e tanto ve frego io vedo la possibilità di parcheggiare vedete se parcheggiare ancora ok allora questa è la clinica però aspettate qua pure in altro se scepe tonali ci va qui uguale ok così possono uscire e andare direttamente alla clinica dove si serviva qua si sono un attimo unpicciati tutti qua vogliono andare a parcheggiare cioè non ho capito sta cosa forse però mi conviene fare una stata pure che taglia qua ci ho piazzato il parcheggio a parte che vabbè lo potrei anche spostare se no una che taglia dritta secondo me ci potrebbe anche andar bene regà sempre di queste grossi ovviamente cazzo succede che ti ha detto rifalla là ora non è che la voglio fa proprio lì però vabbè posso pure rimanere certo noi abbiamo 70.000 si scepetonali magari non è proprio il top però grossomodo eccola tipo così va bene ok dai la strada così va bene subito ci sono andati a parcheggiare questi stronzi guardate non aspettano altro non aspettano altro io vado torgo subitissimo via via non parcheggiate lì così ok così va bene infatti vedete ora stanno entrando tutti anche da st'altra parte si vedono le macchine parcheggiare sopra no però si vedono che passano guarda che cazzo di figata con i pennelletti solari dai non è male mi ripeto me ne aspettavo un po' di più come capienza però va bene pure così dai non è male va bene allora qui c'è stavano picciare perché tutti vogliono andare qua manco facessero una svendita le macchine qui ma ho capito perché tutti vogliono andare qua sinceramente forse perché vogliono andare qui all'ufficio ovviamente quello più vicino è questo lavorano qua magari quindi facciamo un altro ufficio magari anche da quest'altro lato visto che appunto la zona centrale l'abbiamo diciamo monopolizzata con con i palazzoni nel mezzo buttiamoci pure qualche ufficio diciamo che è una zona un po' più da appunto da uffici palazzi insomma sarebbe anche da un filaccio qualche attività commerciale però per il momento lo diamo così se no questi per andare a comprare qualcosa devono andare dall'altra parte dalla città veramente devono fare un viaggio per andare a comprare i carcini tipo perché non c'è niente qui dovrebbe un centro commerciale non sarebbe male qua non sarebbe male questo sta a far casino ovviamente perché troppa gente vabbè devo sistemarla meglio comunque la cosa buona è che siamo in positivo che è già un'ottima cosa allora ragazzi io direi che ci possiamo anche salutare qui abbiamo un po' di problemini soprattutto qui grandi ingorghi da dove andare a risolvere qua la situazione già sta sfuggendo un attimo di mano ok dai direi che ci possiamo anche salutare qui come sempre vi ringrazio per la visione scusate ancora la venombra ma se no devo stare sempre ogni 3x2 a sistemarla e di nuovo vi saluto e ci vediamo al prossimo appuntamento ciao ciao ciao